In questi 15 giorni abbiamo lavorato tanto, veramente tanto, io non ero abituato a un carico così grande e un po' ne ho risentito perché ho avuto qualche problema l'anno scorso, fino all'anno scorso, ho avuto due giorni un po' così e poi mi sono ripreso e il mister mi ha tenuto per farmi giocare questa partita e niente, è soddisfazione immensa poter far gol alla prima gara ufficiale, ma sono più contento di aver vinto questa partita. Siamo 25 ragazzi che comunque si sono riuniti 15 giorni fa, dobbiamo ancora trovare gli automatismi, le cose che ci chiede il mister, ci metteremo ancora un po', ma sapevamo che era una gara difficile perché, ripeto, venivamo da 15 giorni veramente duri e è una vittoria che vale doppio perché abbiamo dimostrato che il gruppo c'è e che i primi 50 minuti siamo stati capaci di soffrire insieme. In questa fase qui è importantissimo giocare gare ufficiali perché anche ti metti in mostra con formazione di alto livello, adesso Cesena ci tocca la prossima settimana, io sono di Cesena, infatti è una partita particolare, benissimo, non vedo già l'ora e niente, è andata bene così.